buongiorno sono marco astore di bg log e oggi ho il piacere di presentarvi i nostri ultimi flow rack realizzati per un'azienda fornitrice di trasmissioni per il settore dell'automotive soluzione assemblata con profilo tubolare in acciaio rivestito in abs blu prodotto nel nostro nuovo stabilimento di avigliana così da rispettare i requisiti di brand ed immagine del nostro cliente ma non solo anche da facilitare l'individuazione della struttura all'interno del magazzino una soluzione flessibile dinamica dotata di quattro ruote di cui due dotate di sistema frenante infatti la soluzione verrà trasportata sulle linee produttive e bloccata in prossimità delle postazioni dell'assemblaggio su questo flow rack abbiamo applicato due piani di carico di cui uno per la gestione dei contenitori pieni e uno per la gestione dei contenitori vuoti ogni corsia sarà in grado di contenere tre di queste cassette così da ospitare solo il materiale necessario per il processo produttivo quindi in logica pool sulle richieste del cliente eliminando quindi alcuni dei principali sprechi quali la sovra produzione i tempi di ricerca del materiale e poi questo si riverserà anche sui difetti di produzione con un sistema di gestione delle scorte first in first out ovvero il primo inserito all'interno delle corsie sarà anche il primo prelevato l'operatore andrà a prelevare il contenitore e una volta completata l'operazione e inserita poi il materiale sulla postazione di assemblaggio andrà a riversare la cassetta sulla corsia di ritorno dei vuoti questo creerà quindi un continuo flusso di produzione eliminando appunto gli sprechi e delle inefficienze che si possono trovare all'interno degli stabilimenti una soluzione che tiene anche conto dei principi di sicurezza all'interno del sito produttivo infatti le cassette verranno arrestate da un profilo tubolare sempre in acciaio rivestito in abs blu così da facilitare il prelievo dei contenitori ed evitare impossibili infortuni per lo stesso operatore inoltre una volta prelevata la cassetta il nostro ufficio tecnico ha progettato due profili tubolari al di sotto del livello di carico così da supportare il peso delle diverse cassette inserite su questo livello infine il flow rack verrà anche integrato a un sistema pick to light così da aiutare l'operatore nel prelievo dei componenti una soluzione flessibile facile e gestibile da utilizzare per il cliente ma anche integrata a sistemi dell'industria 4.0 come appunto il pick to light se stai cercando delle soluzioni in grado di poter attrezzare il tuo bordolinea disporre la componentistica in modo ordinato ed aiutare gli operatori nel prelievo della componentistica e nelle operazioni successive come quella dell'assemblaggio visita il nostro sito www.vigilog.it per visionare alcune soluzioni simili smart soluzioni affidabili e sostenibili per la limmanufazione